L'industrissimo signor Loris Vanni, mi chiamo Ludovico Reviglio e mi permetto di importunarla dal momento che avuto il privilegio di incontrarla personalmente dopo uno strepitoso concerto dei mitici Pluto. Una bella intervista approfondita a tutti e quattro i membri dei Pluto. Per realizzare un film documentario di una sessantina di minuti. Mi dovrei dire la casa del gruppo! Vogliono fare un documentario su di noi ma non sa, parecchio importante. Comunque ci pagano eh! Sì, bravo! Io semplicemente vi adoro. Un grande concerto indispensabile per lanciare iniziative editoriali. Poi, a che bellezza! Dovete fidare, è una cosa grossa. Una volta gli ha trambato la mamma. I più grandi di tutti, il Pluto! Si fa care. Siamo solo dei disgraziati. Si sente che c'è. Filiz. Rilassati. Goditi la vita. Questo paese è morto. Dame Ove. Avete rovinato la vita. L'idea del nome si deve alla divinità greca dell'opulenza e della ricchezza o al pianeta? No, era il nome del cane della minonna. No, era il nome del cane 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 Grazie a tutti